ciao sono maurizio e oggi tolettando tolettando parliamo di tolettatura commerciale dosatrici o forbici migliaia di volte mi sono sentito dire dai miei clienti mi raccomando tutto a forbice ma si può davvero effettuare una buona tolettatura del cane completamente a forbice se parliamo delle linee da imprimere riguardo alcuni standard di razza certamente sì parlo del barbone del bichonna paul frisè del lagotto insomma di tutti i cani a pelo riccio e di alcuni seppur pochi terrier come il cariblu il berlinet il terrier nero russo e altri ancora con manto liscio come lo shih tzu il maltese eccetera e tanti cani metici a pelo liscio o riccio anche per la pulizia degli spazi interplantare delle parti intime di cui parlo nel mio video quattro cose da fare sempre potrei sostituire la tosatrice con la forbice in questo caso però con i evidenti limiti sacrificherei del tempo che potrebbe essere usato diversamente stessa cosa vale per le rasature tipiche di alcuni standard di razza sì certo potrei eseguirle a forbice ma con la tosatrice faccio prima è meglio del resto prima della nascita delle tosatrici moderne che nascono circa 60 anni fa il cane veniva abbellito proprio usando pettini spazzole e forbici e poi ci sono alcune razze tipo lo snauzzer del cocker inglese e quello americano ai quali bisognerebbe nella testa nel collo e nella groppa effettuare il cosiddetto stripping ma spesso nella tolettatura commerciale queste zone vengono tosate con la tosatrice e anche tutte le razze sin qui citate possono essere tosate rispettando la linea di standard facendo uso delle forbici solo per le piccole aggiustature in generale direi che l'uso della tosatrice non esclude quello delle forbici e viceversa ma allora perché tutti i clienti preferiscono il taglio a forbice facciamo un passo indietro la tolettatura moderna la sua espansione durante il boom economico degli anni 60 l'affluenza nelle sale di tolettatura era talmente grande che un attrezzo come la tosatrice divenne presto utilissimo soprattutto l'estate per smaltire una gran molla di lavoro ma sempre in italia in quel periodo alcuni allevatori e tolettatori dedicano una parte del proprio tempo a preparare i cani per le esposizioni canine nelle esposizioni bisognava portare soggetti contro lettature impeccabili che esaltassero lo standard di razza la maggior parte di quelle tolettature venivano eseguite con le forbici da qui nell'immaginario collettivo si fissa la sensazione che il taglio a forbice sia più pregiato del taglio con la tosatrice ma al di là di come nacque questo pensiero che perdura sino ad oggi qualcosa di vero lo possiamo tracciare in questi punti il taglio a forbice è sicuramente più plastico più performante più creativo stressa molto di meno il pelo perché il passaggio della tosatrice sul manto avviene con lame che si muovono centinaia di volte al minuto spesso riscaldandosi e poi il limite della tosatrice sta nel fatto che le lame anche usando rialzi non arrivano a superare 25 mm di altezza per cui tutte le volte che i nostri clienti ci chiedono una spuntatina su un manto che per esempio è di 6-7 cm ci sarebbe impossibile farlo con la tosatrice l'unica eccezione vista tanti anni fa a uno stage è quella dell'uso della lama 40 è una lama da 0 25 mm in cui il toilettatore operava a mano libera sul manto di uno spizzo che per la verità sarebbe meglio non tagliare tornando però tra noi comuni mortali aggiungo che l'uso protratto nel tempo della tosatrice genera più in fretta delle forbici il processo di schiarimento del manto generando una minore vividezza appiattimento ingregimento dei colori è vero però che se per tutti i manti a pelo liscio sarebbe da preferire il taglio a forbice per i manti a pelo liscio il taglio a forbice dritta o dentata che sia nel volume e nella lunghezza è riservato a soli esperti da qui ne deriva in alcuni centri di toilettatura il maggior costo di lavorazione dovuto spesso al maggior tempo impiegato per quanto mi riguarda ho prediletto negli anni un metodo comune a tanti miei colleghi in cui uso la tosatrice quasi esclusivamente nel tronco del cane lavorando con le forbici su testa coda e zampe ovviamente tenendo conto del tipo di manto e morfologia del cane non chiede la sua razza o somiglianza a una di queste in caso di meticci in particolare soggetti vuoi per le condizioni del manto infeltrito o per eseguire un preciso standard di razza eseguo la toilettatura totalmente a forbice che non vi nascondo di amare assai di più anche quella mista o quella interamente fatta con la tosatrice nei prossimi video andremo a vedere i particolari di ogni toilettatura eseguendo lo schema di piccoli episodi in cui affronterò tematiche specifiche per tipo di soggetto o parte di esso per esempio il barbone la testa la coda le zampe il tronco le rasature eccetera ricorda iscriviti al mio canale attiva la campanella per non perderti i prossimi video ciao